Partono gli incontri sannazzariani dalla sinergia tra Università e gli studi di Napoli Federico II, l'Ordine dei Servi di Maria e la sezione napoletana dell'UNESCO, con l'obiettivo di coniugare la letteratura ai luoghi rinascimentali di Napoli. Il primo incontro sul tema il parto della Vergine, immagini di Napoli nel rinascimento, si è avuto presso la chiesa Santa Maria del Parto a Mergellina. L'Università di Napoli Federico II, che io rappresento qui oggi come presidente del Polo delle Scienze Umane e Sociali, abbia il dovere di instaurare rapporti, come si dice oggi, sinergici con istituzioni pubbliche e private per la valorizzazione di tutto quello che è il patrimonio storico, artistico, letterario. Quindi questo primo incontro sul San Nazaro, che è un gigante del rinascimento dell'epoca, appunto, fine 400, prime 500. Per Napoli Jacopo San Nazaro è una figura di grande importanza, di grande rilievo come scrittore, come poeta, come uomo di cultura e uomo di studi. La storia di Napoli è una storia meravigliosa. Noi già l'anno scorso abbiamo realizzato una mostra dedicata a Jacopo San Nazaro, con degli eventi anche musicali, con degli eventi letterari, eccetera. Quindi già siamo partiti l'anno scorso. Poi incontrando il professor Sabatino, propose questa bella iniziativa e quindi noi siamo stati ben lieti di aderire come club, perché noi a Napoli operiamo da 32 anni in tutto ciò che è la valorizzazione della nostra città, perché io amo la mia città e vederla ridotta in questo modo. E poi anche perché i tesori culturali nascosti di Napoli devono essere scoperti e devono essere mostrati ai giovani, perché noi abbiamo delle scuole qui stamattina ed è importante per loro, cioè fare convegni e controconvegni per coloro che già non servono proprio a niente. Abbiamo pensato che un intellettuale come Jacopo San Nazaro può indicare alcune direzioni di percorso ai nostri giovani. Innanzitutto egli, quando Napoli fu occupata dalle truppe francesi, andò in esilio volontariamente assieme al proprio re, perché egli riteneva che era compito del cavaliere seguire il proprio re fino in fondo. E quindi diciamo Jacopo San Nazaro è l'antitesi del trasformismo che abbiamo oggi nella nostra società e quindi può essere un modello da rilanciare anche da questo punto di vista. Ma aggiungerei anche che San Nazaro è anche l'uomo che crede in una sorta di rinascita, egli rilancia il mito di una nuova età dell'oro. Ecco, forse se consideriamo la tristezza del nostro presente, un uomo come San Nazaro che guarda lontano e guarda in prospettiva, ecco questo uomo può esserci di aiuto e può indicare percorsi di strada a noi e ai nostri giovani.